Buona e santa serata a tutti, bentrovati. Che il Signore ci conceda pace e ogni benedizione a noi necessaria. Che visiti le nostre case, le nostre famiglie, gli ammalati, i sofferenti e quanti sono nel bisogno. La seconda lettura di questa quarta domenica del tempo ordinario ci propone il bellissimo inno alla carità di San Paolo. La carità non avrà mai fine, di tutte più grande la carità. Che cos'è la carità se non l'amore? Ed è l'amore che fa la differenza, è l'amore che cambia tutto, è l'amore che costruisce. Il contrario dell'amore è l'odio, il rancore, il disprezzo, la divisione e tutto questo invece non costruisce ma distrugge. Allora ecco mettiamo tutto nel cuore di Gesù e nel cuore di Maria e preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Accogliete la santa benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. A tutti con tutto il cuore, buona e santa notte. Voglio ricordarvi che domani alle 17.20 pregheremo il quarto giorno della novena a Maria che scioglie i nodi. E buona domenica a tutti. Avete sentito anche Pippi? Vi ha salutato, eh?